La biblioteca partecipa anche a un progetto di valorizzazione del patrimonio delle Clarisse, sabato 26, quando nel pomeriggio, di concerto con alcune strutture che apriranno al pubblico nel borgo di Schiaponte, nonché alla chiesa dei frati francescani, esporremo il nostro patrimonio delle Clarisse, il preziosissimo diario delle Clarisse e alcuni documenti che contengono delle prediche rivolte alle Clarisse. Quindi tutta l'attività spirituale che caratterizza l'ultimo periodo presso la Biblioteca Antoniana. Un'occasione anche per conoscere una pagina della nostra storia, perché questa biblioteca conserva veramente pagine di storie ancora inedite. Quella occasione è l'occasione nella quale la biblioteca racconta ancora di più la sinergia che riesce a porre in essere con altre realtà presenti sul territorio. Abbiamo lavorato con l'ufficio dei beni culturali della diocesi, con il castello aragonese d'Ischia che ha dato avvio proprio a questo discorso, e al convento dei frati minori che aprirà ancora una volta la sagrestia al pubblico con il politico d'Avalos. Grazie. Grazie.